il lavoro che hai fatto su te stessa sta per portarti allora verso l'obiettivo e adesso cerchiamo di capire che cos'è che realmente porti a casa perché il lavoro che hai fatto su te stessa e in te stessa non è diciamo avulso è staccato dal mondo e dalle persone che ti circondano qui si sta giocando una sorta di partita potrebbe anche essere la partita con la tua vecchia personalità e la nuova che si sta imponendo e in questo momento possiamo dire proprio di sì stai mandando in pensione con tutti i ringraziamenti del caso una parte di te un'inclinazione caratteriale o istintiva che ti ha accompagnata fino ad oggi ha avuto anche la sua utilità e funzione ma che oggi non ti serve più e con il cuore leggero e sereno riesce ad accantonarla e sarà comunque una rinascita grazie per la prima volta grazie a tutti